Per fronteggiare l'attuale crisi energetica e i relativi rincari dei costi di elettricità e gas in Italia si sta promuovendo la costituzione di comunità energetiche rinnovabili. Consiste in un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Si tratta di una opportunità che permette di ridurre i costi utilizzando l'energia prodotta, migliorando l'impatto ambientale ed educando i cittadini ad una cultura rivolta alla sostenibilità urbana. A sud di Salerno il comune di Vibonati si è fatto avanti per favorirne la nascita. I cittadini interessati ad aderire alla comunità energetica vibonatese devono compilare l'apposita scheda che si può ritirare presso gli uffici comunali o scaricare dal sito www.comune.vibonati.salerno.it dove sono a disposizione tutte le informazioni. Gli associati, ricordano dal comune, mettono a disposizione della comunità energetica le proprie pertinenze a titolo gratuito per realizzare gli impianti fotovoltaici a fronte dell'energia consumata. Inoltre l'energia eccedente e l'autoconsumo verrà consumata virtualmente dagli altri membri della comunità.